Sono riemersi lentamente grazie ai leggeri e sapienti colpi di spatola dei restauratori che da alcuni giorni sono impegnati in questa attività. Siamo a Stravella, nell'atrio del municipio, con l'avvio di una campagna di lavori e di ristrutturazione che dovrebbero servire a rendere più fruibili i servizi ai cittadini. I tecnici si sono imbattuti nella scoperta di affreschi risalenti a quattro secoli fa, probabilmente realizzati al tempo dell'ampliamento di questa villa signorile, a partire dal 1666, quando la proprietà fu acquisita dal marchese Pietro Isimbardi, un nobile pavese. Fu in quel tempo, secondo alcuni studi, che vennero realizzati gli affreschi raffiguranti per quel che finora si è scoperto due statue femminili inserite in una serie di decorazioni e anche i giardini all'italiana che danno su Via Cavour. Dopo 400 anni circa abbiamo riportato alla luce degli affreschi nascosti, nascosti da diversi strati di intonaco e di pittura, affreschi che potete comunque poi vedere chiaramente alle mie spalle, risalenti quindi all'epoca del 1650 circa, e che hanno un'importanza, sono bellissime, un'importanza architettonica, un'importanza storica notevole per questo palazzo. La parete oggetto del restauro conservativo si trova a nord dell'edificio, ma al di là di questa scoperta curiosa e del suo recupero, il progetto prevede una serie di interventi in tutta l'area di accesso al palazzo comunale. Una riqualificazione degli spazi, in modo tale da renderli più idonei e più conformi alle nuove normative, con degli accessi adeguati, un'accessibilità migliore, anche un ufficio di relazioni con il pubblico, un futuro che stiamo preparando, in modo tale che i cittadini ci sia un'interazione con i cittadini maggiore, che i cittadini possano poter arrivare in comune ed avere in tempi brevi, sbrigare tutte le loro pratiche in tempi più brevi. Sarà in due fasi, una fase che riguarda dove ci troviamo adesso, quindi l'ingresso e altri uffici, con anche la sistemazione nuovo di pavimenti, e poi una seconda fase che riguarderà la parte dell'anagrafe, con anche la sostituzione dei serramenti. Tutte queste opere chiaramente sono state indicate dalla sovrintendenza. Grazie proprio alle indicazioni della sovrintendenza e dai saggi che ci ha fatto fare su questi muri, preliminarmente ai lavori, abbiamo potuto scoprire queste bellezze.